La Repubblica delle Biciclette, un arrivo suggestivo del Giro d'Italia sul Monte Etna e si sente la temperatura, si sente il freddo, ma c'è gente che qua ci lavora, c'è gente che qua fa sul serio e quindi io cederei, lo passo, alla nostra encomiabile geologa, la Lugeri, che magari racconterà qualcosa di più dell'attività che si fa quando il Giro va via, quando questi cartelloni smontano e vanno verso la tappa di domani. Che cosa succede qua, Francesca? Che cosa succede non ve lo dico certo io, ma faccio parlare le voci dell'Etna. Abbiamo già saputo che l'Etna ha le sue voci che vengono registrate, che danno segnali quantificabili, analizzabili su quello che accade dentro, quello che non vediamo. Adesso però ci facciamo spiegare qualcosa, seriamente, dal nostro professore Carmelo Ferlito dell'Università di Catania e poi da Salvo Longo, che è una guida alpina dell'Etna. Anche lui è una guida vulcanologica dell'Etna. Abbiamo due guide vulcanologiche dell'Etna, insomma due esperti, che veramente sanno che cosa succede a livello scientifico, a livello anche sociale ed economico, perché qua ci sarà un sacco di gente che va su e che vuole sapere, no? Diffondiamo. Cominciamo da Carmelo. Ok, intanto diciamo che l'Etna è un vulcano perennemente in eruzione. Uno pensa che l'Etna è rutta o non è rutta, no? L'Etna è rutta sempre. Ogni giorno dall'Etna vengono emesse enormi quantità di gas e quando dico enormi parliamo di diverse decine di migliaia di tonnellate di gas. Se fa la tonnellata di gas ce ne vuole, insomma. Sì, ce ne vuole, ce ne vuole tanto. Oggi non lo vediamo, non vediamo i crateri perché è tutto coperto, però mentre noi parliamo qui al di sopra delle nuvole c'è un continuo degassamento. Oltre all'attività di degassamento, periodicamente, devo dire periodicamente, ma abbastanza spesso, l'Etna dà vita ad eruzioni, che sono di due tipi. Le eruzioni lente e continue, quelle che possono durare alcuni mesi, a volte anche anni, con delle semplici colate lavi che scendono lungo i versanti dell'Etna ma che non coprono grandi distanze. In genere dopo alcuni chilometri, 3-4 chilometri, si fermano. E poi le attività parossistiche, che sono le più spettacolari, ma anche le più temibili. Sì, sono quelle con fontane di lava. Quando dico fontane di lava dovete immaginare queste esplosioni con dei getti continui che arrivano fino a un chilometro sull'orlo del cratere. Sono dei veri e propri fuochi d'artificio. Con colate di lava annesse. E questa è un'attività, devo dire, anche quella molto frequente, soprattutto negli ultimi anni, dal 2011 al 2016, ha fatto diverse fontane di lava. E queste sono in assoluto le attività anche più fastidiose, perché sono quelle che, mettendo cenere, bloccano l'aeroporto. Sapevo questa cosa, appunto, che le sale di monitoraggio si occupano anche di verificare se ci siano, appunto, delle ceneri nell'atmosfera che possano interferire con i voli, che sono abbastanza rognose, insomma, da gestire, se non sbaglio. Assolutamente sì. Negli anni Ottanta ci furono un paio di quasi incidenti, che per fortuna non furono dei veri incidenti, ma i motori degli aerei, incontrando la cenere vulcanica dei Plum, si spensero per un paio di volte. E quindi gli aerei furono lì per precipitare. Si riaccesero i motori all'ultimo momento, ma da quel momento in poi c'è un'attenzione enorme da parte delle compagnie aeree sulle eruzioni vulcaniche. A Catania c'è un radar che cerca proprio di individuare la presenza di particelle piroclastiche, cioè di ceneri, nell'aria in occasione di attività eruttive. E oltretutto le sale di monitoraggio, appena c'è un minimo accenno di aumento del tremore vulcanico e degli altri parametri, subito danno l'allerta e impediscono l'arrivo e il decollo dei voli. Quindi c'è un monitoraggio che ci può far stare tranquilli. Però a proposito di tranquillità, abbiamo parlato in ogni nostra puntata di quello che è il pericolo, di quello che è il rischio. Sappiamo, e lo ripeteremo fino alla nausea, che il rischio implica la nostra responsabilità, perché noi corriamo un rischio quando ci esponiamo a un pericolo. La pericolosità può essere analizzata, conosciuta e quantificata attraverso la conoscenza territoriale. Abbiamo tutti gli strumenti per farlo, abbiamo chi ce lo spiega, siamo noi che non dobbiamo esporci al pericolo. Vediamo un po' appunto come possiamo non esporci ai pericoli in un ambiente particolare come questo, che non sempre, insomma, è anche abbastanza difficile da affrontare. Parlare dopo il professore già è difficile. Ma noi parliamo da un altro punto di vista, dai. Io faccio la guida, accompagno le persone, faccio di tutto per far vedere il massimo ai turisti che vengono da tutto il mondo. Qui, proprio qui siamo a un punto un po' più basso, siamo a 1700 metri, questa è la zona, per esempio, e qui portiamo le scuole, portiamo le scuole per proprio portare già i bambini a capire i fenomeni, per riuscire a spiegare il nostro piccolo e far innamorare magari i ragazzi dell'Etna, del nostro vulcano, sia siciliani, sia italiani, sia, come ho detto prima, di tutto il mondo. Poi ci sono le escursioni fino in cima. L'Etna è un vulcano, un vulcano attivo, è sempre attivo, ci sono sempre dei pericoli. Cerchiamo noi di attenuare un po' il pericolo. I rischi ci sono sempre. Ovviamente affidarsi alle guide, persone esperte del posto, dei luoghi, è la cosa più saggia. Io farei un primo piano su questo simpatico logo, perché è veramente divertente, abbiamo... La nostra società cooperativa Gruppo Guido Alpine e Etna Sud, è il nostro simboletto, con il diavoletto che spunta... Ma quante persone vi arrivano, più o meno, se, insomma, avete parecchi, speciale in questa stagione, immagino, cominciano adesso? Adesso si inizia, sì, fino a settembre, ottobre, ma centinaia di migliaia di persone. Caspita, quindi è anche una risorsa territoriale non indifferente, che rende l'Italia famosa in tutto il mondo. Ripetiamo che l'Italia è un paese giovane, è un paese in cui le dinamiche geologiche fanno sì che noi abbiamo una così grande varietà di paesaggi. Ah, addirittura, questo è più che giovane, qui, qui sull'Etna, c'è l'Italia che ci sarà. L'Italia che ci sarà non c'è ancora, probabilmente, tra qualche anno, speriamo di non qui, ma quando vi capita di andare su al cratere, adesso, ci tornate tra un anno, trovate tutto cambiato. C'è un pezzo d'Italia che non c'era prima, c'è adesso. Allora, abbiamo appena fruito di una tappa con qualche difficoltà, come ci può essere arrivando in un posto così complicato per una carovana chiassosa e rumorosa, una carovana che vive di connessioni, perché tutto viene trasmesso dalle televisioni e molti dicevano qua non c'è segnale, non c'è segnale. Allora, io vorrei chiedere al professore e anche alla guida quanto è stata importante la tecnologia, c'è il progredire tecnologico degli ultimi anni per migliorare i monitoraggi, ma anche per monitorare, per tenere in sicurezza le comitive. E quanto ancora, cosa vi aspettate? Vi sembra che tutto sia al passo coi tempi o si può fare un upgrade? No, qui non ci siamo. Non ci siamo perché, anzi, su questo mi permetto di dire che l'affidarsi troppo alla tecnologia e dimenticare le regole e la severità della montagna è un errore enorme. Quando si va in montagna non bisogna assolutamente affidarsi a GPS, a tecnologie. Sì, che sono utili, ma bisogna sempre imparare a guardarla con rispetto, ad andarci con la giusta consapevolezza, con il giusto allenamento, con la conoscenza e man mano, grado per grado, mai fare il passo più lungo della gamba solo perché si ha a disposizione un'attrezzatura. Questo per quanto riguarda le attività escursionistiche alpinistiche. Poi per quanto riguarda il monitoraggio, sì, è vero che adesso ci sono tantissimi parametri fisici che vengono monitorati, però ancora devo dire che siamo veramente lontani dalla possibilità di prevedere con largo anticipo le eruzioni. Le possiamo prevedere solo nel giro immediato delle ore barra minuti. Quindi non riusciamo ad avere un quadro di medio-lungo termine. Qual è l'osservatorio nel mondo più all'avanguardia per la tua conoscenza? Beh, sicuramente Catania, l'INGV di Catania è uno dell'osservatorio etneo che sta all'INGV di Catania e ha un ottimo livello. L'osservatorio dell'Hawaii è un altro ottimo osservatorio. Quello delle Cascades negli Stati Uniti del nord-ovest, cioè Washington, è pure un ottimo livello. È del Piton de la Fournese, dimenticavo, in Francia, l'île de la Rion. Ma non sono molti. Gli osservatori vulcanologici diciamo di buon livello. Sicuramente il nostro è buono, molto buono. e te ci si perde sull'Etna. Ne hai ripescati tanti con la nebbia, credevo fosse di là, non era di qua. Ci si vede, ci si vede. Anche adesso, diciamo, negli ultimi anni c'è tanta gente che si avventura proprio senza né attrezzature, né abbigliamento. ti capita di incontrare le persone al cratere in cima, in ciabatte, in fradito, e partono. Poi molte volte andiamo a recuperare. C'è un po' di ignoranza in giro. È bello alla prudenza. Sì, questo sempre, questo non deve mancare mai, perché purtroppo, dicevo, gli ultimi anni va sempre a aumentare, aumentare la gente che scompare. Come diceva Totò, la prudenza non è mai troppo. Salutiamo dall'Etna e nell'augurio appunto che si possa fruire del territorio nel migliore dei modi, in sicurezza e in serenità. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Grazie, soprattutto grazie.